Ma mettiamo che sto figlio, cioè mettiamo che io e sto figlio, che comunque ti ammazzo. Ma... io non ci ho ancora pensato. Massimiliano? No, 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 per carità, quello Massimiliano? No, guarda, ti chiamiamo... Cioè, si si decide che sto figlio è... cioè, capo... cioè io gli ho pensato Ugo. Ugo. Come tuo padre? Eh, sì, ma no, per mio padre. Cioè, a me non mi importa proprio questa cosa. No, è proprio perché a questo io il vaglione viene più educato. Ma perché Massimiliano? Massimiliano viene scostumato. Cioè, lo so, è proprio un uomo che è scostumato. Perché Massimiliano... Per esempio, Massimiliano sta vicino alla mamma, questo vaglione, e si muove perché è a qualche parte. La mamma prima che lo chiami, dice Massimiliano. No, io non ce l'ho chiesto addosso qua che sta facendo. Non lo ubbidiscono perché è troppo lungo. Vici Ugo, tu lo chiami Ugo, quello come sta vicino alla mamma, questo sta per muovere. Ugo! Ugo non aveva nemmeno tempo. Capito? Può fare un passo, però Ugo ha dato una per forza. Don Pablo, buongiorno. Eh, devo parlare con voi, Don Pablo. Deve essere molto importante, perché anzi mi come un cavallo. Importantissimo, Don Pablo. Mi sono innamorato. Bueno, non è molto grave. C'è rimedio. No, no, che rimedio, Don Pablo, ma... non voglio rimedio, voglio stare malato. Mi sono innamorato, innamorato, proprio, innamorato. Sì, ma di chi ti sei innamorato? Si chiama Beatrice. Ah, Dante. Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Va bene? Ricordati che devi morire. Sì, sì, no, ma me lo segno proprio. C'è una cosa... non vi preoccupate. Allora che? Allora che? Che devo soffrire davanti a questa? Questa c'ha un nome, si chiama Flora. Eh, e che devo soffrire davanti a questa? Questa c'ha un nome, si chiama Flora. Non mi sembra. Voglio stare da sopra. Mi piacere, vedete. Piggila e portatela. Perché io devo lasciarmi soffrire tranquillo. Chi vi chiede niente a voi? Mi chiesto qualcosa? No, voglio solo soffrire bene. Mi distraete. Non mi riesco a concentrare. Con voi qua non mi riesco. Tu che... Capito? Soffro male, soffro poco. Non mi diverto. Non c'è quella bella sofferenza. Voglio stare proprio... Soffrire, proprio soffrire. Capito? Voglio stare... Ma tu mi distratti. Non ti pare niente che stai qua. Mi distratti. Io... Mi distratti. No, ma tu mi lại sers. Ehi io tu mi sersi. Chi